Buongiorno a tutti, io ho chiesto di servire a tutti i tuoi amici. Vi devo prendere l'attenzione dei consiglieri, di ripetare se ho alcuno dei poteri seriziali. Capanno, la soluzione, la soluzione, un po' di attenzione, di lei che non si chiede di entrare in aula. Grazie. Voto di attenzione, Bussa, Orlando Esposto. Voto di attenzione, grazie. Prego, non ci chiedi. Grazie, grazie. Allora, io intendo più che altro per una questione, diciamo, di attenzione, dovete essere un Presidente della Commissione, anche da prima del Consiglio, di questa proposta, di questa delita, diciamo, e abbiamo forse a tutto modo di formi in via primaria che avevano varie domande, ma anche che possono, anche soluzione, diciamo, sono state riproposte in questa attenzione. Mi guardano, innanzitutto, la cadenza, evidente, del contratto che hanno messo in atto con la società dell'editrice. Altri, diciamo, problemi che ci siamo posti erano, comunque, che sono stati parentati qui, che era l'unico di mantenimento di reoccupazione o, a quanto vale, regolamentazione di questi, diciamo, posti di lavoro che sembrano esserci e non esserci questa, attualmente, in questa attenzione. Io ho avuto la possibilità, diciamo, di avere in commissione questa delita e, purtroppo, ho avuto anche la necessità di, forse la direzione, di portarla in questa attenzione, dove c'è la massima rappresentanza di tutti i partiti e, quindi, ci possono essere pressioni di poter vedere. Io credo che c'è stata, infatti, una proposta da parte del consigliere Pionice Massimo, un'altra proposta, attualmente valida, che potrebbe essere quella dell'internalità, il servizio di gestire, il fatto gestire direttamente dall'amministratore. La proposta è che dovrebbe essere ovviamente valida e studiata, ci dovrà, comunque, una costruzione di attività, ma, su tutto, credo che ci voglia probabilmente una maggiore attenzione. Bisogna tenere solo presente che noi, come amministrazione, possiamo evitare che questa struttura, che attualmente fornisce il lavoro, e non solo fornisce il lavoro, ma quello che attualmente fornisce sempre in pubblicità. Dobbiamo fare in conto che questa struttura, che da l'altro dà la possibilità, la città di pulire, oltre che in una vicina, anche in un palazzo dell'opporto, non va da destra, non va da lasciata a sé, non va da assolutamente, diciamo, costituirata come un altro amministrativo. Io ho detto che, per evitare di creare l'anno, e per fare vuoto che, purtroppo pochi devo sottolineare, ma ci sono stati alcuni, alcuni atti, o alcuni delibere, come scordinatività di tutta la struttura, che erano altri, che riguardavano veramente la città. No, scusami, non lo diritto più bene della città, che riguarda la parte fondamentale, diciamo, che tutti abbiamo considerato, unico, unico. No, voglio dire che in un'unità che avete anche voi, diciamo, da solo, o di più, come il momento dei generati, diciamo, come l'umatico, come la base fondamentale, così viene con un ciclicitatore cercato della rettetica, non sono più viso. Allora, dicevo, per evitare di creare l'anno. Scusate, per evitare di tutta? Sì, per evitare di tutta? Scusate, per evitare di tutta la città, scusami. Scusate, per evitare di tutta la città, io devo semplicemente chiedere, a terzi momenti, diciamo, c'è la tensione che questa amministrazione si sa avvicini, non mi ricordo la maggioranza, no, si sa avvicini tutta l'amministrazione, che deve avere verso questa struttura e presso tutti i voti che questa struttura può portare, presso tutti i lavoratori che sono comprati in questa struttura, presso tutti i nostri viti, amici, 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 che è la struttura. Io, vi vedo, credo che su altri, di fondamentale di tutta la città, non debba esserci separazione di luogo, di partito, di ideologia, però ho visto che questo non è avvergosto, probabilmente compatibili, forse compatibili, bisogna semplicemente usare una cosa speciale. Noi abbiamo tutti il bisogno di fare un altro condimento maggiore sul campo, quindi chiederei al, non so, al signor o all'assessore di fare una riflessione su questo, diciamo, particolare momento che ci ha visto oggi o oggi, e di ridurre tanto, 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 chiedo che venga messo ai voti, quindi, che tutti noi possiamo, ehm... ... 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